Filippo, hai vinto la prima gara di apertura dell'Oxio di Roma a Piazza di Siena, è sempre un'emozione incredibile immagino. Ciao a tutti, ho appena vinto in questo campo alle mie spalle la gara di apertura dell'Oxio 2018 di Roma in Piazza di Siena. Questo è un anno particolare perché per la prima volta nella storia Piazza di Siena vede due campi, un campo in sabbia qui al galopatoio e il solito ovale che però è tornato come di tradizione con il manto arboso che come colpo d'occhio è meraviglioso. Quindi niente, sono molto felice di aver vinto la gara d'apertura con il mio Kiddish della Chavè che è un calo che mi sta dando tantissimo, come anche al Coppa del Mondo a Verona l'anno scorso, che abbiamo vinto la gara d'apertura, quindi il primo giorno ci porta bene. Incrociamo le dita per i prossimi giorni e ci vediamo presto. Ciao!